I due arrestati si dicono innocenti, delitto di sesto rilevante, Gesonita Barbosa e Paolo Ginocchi hanno incontrato i loro avvocati dopo l'arresto e entrambi si professano innocenti. Ci rivolgeremo alla prefettura contro di capo ad annunciarlo alla minoranza consigliare a Chiaveri che spiega il motivo. Non hanno ancora comunicato sul sito del comune la loro situazioni in merito a redditi, stato patrimoniale, curriculum. Due bollini rosa per l'ospedale di Lavagna, ieri a Roma la consegna, si tratta del riconoscimento che prema gli ospedali attenti alla salute femminile. Buonasera dal Tg Tiguglio, come abbiamo fatto ieri anche oggi apriamo con il delitto di sesto Piange e si dispera per l'arresto e pensa ai figli rimasti soli. Così l'avvocato Nicoletta Peri ha trovato la sua assistita, Gesonita Barbosa, ieri nel calcere femminile di Genova a Ponte Decimo. È frastornata dopo una notte in questura ma soprattutto, continua la legale, nega ogni addebito e mi ha detto che non crede che il suo attuale compagno sia coinvolto nel delitto. Per l'uccisione di Antonio Olivieri, l'imbianchino trovato morto in uno scantinato di Viale Roma nei pressi della stazione ferroviaria di Seste Levante il 23 novembre scorso, con la testa fracassata, sono stati arrestati due notti fa la 35enne brasiliana e il nuovo convivente di lei, Paolo Ginocchio, 45 anni di San Salvatore di Covono. Lo stesso Ginocchio, attraverso il proprio avvocato Emanuele Olcese, ha ribadito che la notte dell'omicidio dormiva e non sa spiegarsi i movimenti della sua automobile ripresi dalle telecamere disseminate tra lavagna e Seste Levante. I due, che vivevano in via dei Devoto, sono stati arrestati dalla squadra mobile di Genova con l'accusa di omicidio aggravato dalla premeditazione. Avrebbero agito per odio, la donna con il ruolo rimandante, mentre l'uomo sarebbe l'autore materiale del delitto. Per l'accusa, Barbosa, conosciuta a Seste Levante anche con il nome di Anita Brandau, nutriva odio verso Olivieri, da cui era in via di separazione e al quale aveva già bruciato il motorino, gesto per cui era stata condannata in tribunale due giorni prima del delitto. Barbosa, in cura al SET per ludopatia e sempre in cerca di soldi, provava un forte risentimento verso Olivieri, che aveva più volte minacciato di morte. Lo riteneva responsabile della scelta compiuta dal tribunale di affidare all'uomo la figlia di 15 anni della donna e il figlio di 10 anni della coppia. A spingere Barbosa e il nuovo compagno ginocchio ad uccidere Olivieri ci sarebbe anche una questione economica. Con la morte dell'imbianchino, la donna sarebbe entrata in possesso del denaro del marito, dal quale è in fase di separazione, come detto. Denaro di cui la brasiliana aveva bisogno per giocare e coprire i debiti di gioco. A tradire la coppia ci sarebbero delle intercettazioni telefoniche e un sms che ginocchio ha inviato il pomeriggio dell'omicidio alla donna con cui le chiede di cancellare tutta la cronologia dei messaggi. Barbosa lo aveva detto anche ad un amico attraverso un messaggio che la morte del marito l'avrebbe fatta diventare ricca. Per questo motivo, escogita il piano insieme al suo compagno per fare fuori l'ex e quanto è emesso dall'ordinanza del GIP Franca Borzone con cui è stato disposto l'arresto della coppia. La brasiliana è una donna avida di denaro, scrive il GIP, che nutriva un profondo rancore verso il marito. È una persona priva di scrupolo, pronta a tutto per le proprie mire e vendicativa. Cambiamo argomento. Il comune di Santa Margherita Ligure potrà vendere l'ex collegio di Villa Lomellini, edificio che dal 1948 era vincolato come istituto scolastico da molti anni in stato di abbandono e degrado. Il Senato ha approvato in via definitiva la proposta di legge in tal senso presentata da Mara Carocci, deputata del Partito Democratico. La rimozione del vincolo a ferma a Carocci consentirà al comune di Santa Margherita Ligure di collocare il bene sul mercato immobiliare, liberando risorse da utilizzare per l'istruzione e rispettando lo spirito originario dell'atto di liberalità del donatore. Il sindaco di Santa Margherita Ligure Paolo Donadoni ringrazia i parlamentari che hanno trasformato un problema in risorsa e annuncia che una volta alienato l'edificio i proventi saranno utilizzati per attività o progetti legati alla cultura e all'istruzione. Andiamo a Chiavari dove la minoranza si rivolgerà addirittura alla prefettura contro la giunta di Capua. Non hanno ancora comunicato sul sito del comune la loro situazione in merito a redditi, stato patrimoniale e curriculum, dicono i quattro consiglieri di minoranza. Sono trascorsi più di cinque mesi dalle elezioni ma i nuovi amministratori non hanno ancora comunicato sul sito del comune la loro situazione in merito a redditi, stato patrimoniale e curriculum. Lo denunciano i gruppi consigliari di minoranza a noi di Chiavari e Chiavari sempre al centro che hanno intenzione di segnalare la vicenda alla prefettura e a tutti gli organi competenti. Sapevamo perfettamente, affermano Roberto Levaggi, Daniela Colombo, Silvia Garibaldi e Sandro Garibaldi che la coalizione che governa attualmente Chiavari non avesse nessun tipo di collante politico. Questa nell'ennesima dimostrazione. Gli interessi sono altri. Difatti non si avvertono più concetti come la trasparenza e la partecipazione, tanto decantati in campagna elettorale. Sempre secondo i consiglieri comunali di minoranza di Capua, i suoi assessori e consiglieri di maggioranza sono in grave infrazione. Per questo segnaleremo il fatto presso la prefettura e presso tutti gli organi preposti. Non possiamo tollerare questa totale mancanza di rispetto verso le leggi ma soprattutto verso i cittadini. Non ci stupiamo di Segalerba, di Capua e compagni, ma dove è finita la trasparenza invocata dal consigliere Canepa? Dove è finito l'insopportabile cipiglio del consigliere Giardini? Dove sono i controllori del Movimento 5 Stelle? Si sono assopiti in attesa di qualche accordo? Noi di Chiavari, e Chiavari sempre al centro, continueremo a vigilare. Chiediamo, concludono i quattro, che questa situazione venga risolta quanto prima, anche se il ritardo resterà comunque evidente e soprattutto colpevole se non sospetto. Chi non ha nulla da nascondere, infatti, conclude ancora la minoranza, non si presta ad una melina di questo tipo. Andiamo a Genova dove il consiglio regionale ha approvato ieri sera a maggioranza 16 sì e 14 no il nuovo piano sanitario per il triennio 2017-2019. L'approvazione è arrivata dopo tre sedute di consiglio che hanno state precedute da svariate riunioni delle commissioni sanità per ascoltare le voci del territorio. Soddisfazione è stata espressa dal presidente della regione Liguria Giovanni Totti sulla sua pagina Facebook. Un bel regalo per la Liguria questo Natale, abbiamo approvato il piano socio-sanitario della regione, cure più efficaci, migliore assistenza domiciliare per i pazienti, nuovi pronti soccorso, minori costi per il contribuente, così sotto l'albero comincia una Liguria migliore, scrive Totti. Critiche invece le opposizioni che parlano di provvedimento astratto che non risolve i problemi della sanità Liguria e che apre le porte alla privatizzazione di diverse strutture. E a proposito di sanità, due bollini rosa per l'ospedale di Lavagna, anche quest'anno l'ASL 4 Chiavarese ha partecipato all'iniziativa ottenendo due bollini rosa per l'ospedale appunto di Lavagna. Si è conclusa la nuova edizione del bando biennale del programma Bollini Rosa, il riconoscimento che l'Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna, Onda, da sempre impegnata sul fronte della promozione della medicina di genere, attribuisce dal 2007 alle strutture ospedaliere attente alla salute femminile. Nell'anno del decennale sono 306 le strutture ospedaliere premiate, 71 hanno ottenuto il massimo riconoscimento, tre bollini, 183 due bollini e 52 un bollino. Inoltre 13 ospedali hanno ricevuto una menzione speciale per l'impegno dimostrato, partecipando a numerose iniziative promosse da Onda e per la presenza al proprio interno di percorsi diagnostici terapeutici dedicati alle donne nell'ambito della cardiologia. La cerimonia di premiazione si è svolta ieri a Roma, al Ministero della Salute. Anche quest'anno l'ASL 4 Chiavarese ha partecipato all'iniziativa promossa da Onda, ottenendo due bollini rosa per l'ospedale di Lavagna, a conferma del continuo e progressivo impegno per la promozione della salute delle donne. Nell'ASL 4 Chiavarese il progetto bollini rosa è iniziato nel 2007 ed è coordinato dalla struttura qualità accreditamento e risk management diretta dalla dottoressa Cristina Giordano. Tra i criteri di valutazione con cui sono stati giudicati gli ospedali candidati, la presenza all'interno delle aree specialistiche di maggior rilievo clinico ed epidemiologico di servizi rivolti alla popolazione femminile, la propriatezza dei percorsi diagnostico-terapeutici a garanzia di un approccio alla patologia in relazione alle esigenze della donne, l'offerta di prestazioni aggiuntive legate all'accoglienza in ospedale e alla presa in carico della paziente, come la telemedicina, la mediazione culturale ed altri servizi. Per maggiori approfondimenti si può visitare il sito www.bullinirosa.it riservando all'iniziativa e alle attività correlate in cui sono consultabili le schede di tutti gli ospedali premiati suddivisi per regione con i relativi servizi e con la possibilità per i cittadini di esprimere il proprio parere sulla base dell'esperienza personale. Le informazioni sulle attività e sui percorsi vicini alle donne attuate all'interno dell'ASL 4 Chiavarese sono pubblicati sul sito www.asl4.liguria.it Parliamo di viabilità per lavori di manutenzione al depuratore fognario. Un senso unico alternato regolato da semaforo mobile sarà in vigore da mercoledì 13 e giovedì 14 dicembre, nello specifico dalle 9 alle 17 tra il chilometro 14,5 e il chilometro 15 sulla strada provinciale numero 26 della Val Graveglia in comune di Ne. E andiamo a Sestri Levante, sposarsi in Baia del silenzio a Sestri anche durante l'inverno. Mediaterrano Servizi propone una novità, matrimonio invernale in Baia che si affianca così al già collaudato matrimonio in spiaggia. Dopo l'inaspettato successo del matrimonio in spiaggia, Mediaterrano Servizi propone un'ulteriore novità, il matrimonio invernale in Baia. Con l'obiettivo di destagionalizzare il fenomeno e l'entusiasmo di sfruttare l'enorme potenziale della bellezza offerta dalla Baia del silenzio di Sestri Levante in inverno, si ripropone dunque la formula della cerimonia civile sulle panoramiche terrazze dell'ex convento dell'Annunziata oppure in spiaggia sulla sabbia tra le barche dei pescatori alate sulla riva. Il primo weekend di dicembre ha reso possibile sperimentare tutto questo con la celebrazione di due matrimoni in Baia. Sabato, nonostante le rigide temperature e il forte vento, la cerimonia è stata celebrata come di consueta all'interno dell'ex convento dell'Annunziata. Domenica, invece, grazie alle favorevoli condizioni climatiche è stato possibile realizzare la cerimonia sulla spettacolare terrazza facciata sul mare. Il matrimonio invernale in Baia rientra nel traguardo che Sestri Levante si sta impegnando a raggiungere, ossia proporre iniziative e attività per creare occasioni di richiamo turistico in quel periodo dell'anno, come l'inverno, in cui cala l'affluenza di persone che scelgono località di mare per trascorrere le vacanze o il tempo libero, ha affermato il direttore di Mediaterraneo Servizi, Marcello Massucco. Una totale immersione nella bellezza, nella tranquillità e nella serenità che solo la Baia del silenzio di Sestri Levante sa donare, nelle fresche e limpide giornate invernali. Per questo motivo abbiamo studiato una serie di pacchetti all inclusive per le esigenze di ogni coppia di sposi. Il dottor Gianalberto Mangiante, amministratore unico di Marina Chiaveri. C'è un progetto che è stato presentato e che è quello di unire la gestione dei parcheggi a Chiaveri sotto appunto la gestione di Marina Chiaveri, quindi non unire ma inglobare per così dire. Di questo ci può parlare? Dunque, questo è sicuramente un progetto su cui si sta lavorando, sia sul piano industriale sia sui piani della fattibilità. Sicuramente nel 2018 ci dovrebbe essere la via di questo progetto che oltre a rappresentare sicuramente un importantissimo valore aggiunto per l'amministrazione comunale, al tempo stesso può costituire un elemento importante per Marina Chiaveri perché potrebbe portare alla razionalizzazione degli spazi all'interno dell'area con una rivisitazione di quelli che sono i parcheggi e quelle delle aree da destinarsi agli esercizi commerciali e agli eventi in genere. Avete immaginato come sarà la gestione del personale che a quel punto sarà, probabilmente si immagina comunque perché si è anche detto molto sulla gestione del porto e sul porto in sé, il personale di Marina Chiaveri insieme a quello di ex APCO a questo punto? Qui sicuramente trattandosi di normative di carattere pubblico vi saranno dei bandi a cui potranno ovviamente a dire tutte le persone che ritengono di avere caratteristiche specifiche per poter svolgere queste mansioni. Certamente abbiamo predisposto un piano industriale in fase di completamente affinamento e una volta che questo è completato l'amministrazione darà le linee programmatiche a Marina Chiaveri e noi ci muoveremo per realizzare questo progetto che senz'altro nel 2018 troverà il suo avvio. Il 2018 è lungo, avete individuato dei tempi? Più o meno verso la metà, intorno al mese di giugno-luglio dovrebbe esserci la partenza di questa nuova attività. Come amministrazione comunale abbiamo deciso di reinternalizzare i servizi affidati esternamente all'Apcoa. Dal 31 gennaio 2018 scadrà l'attuale bando con l'Apcoa, probabilmente ci sarà una proroga tecnica e abbiamo deciso di affidare alla società in house Marina Chiaveri i servizi strumentali per la gestione dei parcheggi. Marina Chiaveri ritengo che sia una risorsa per il comune di Chiaveri e per i chiavaresi. Oltre al porto intendiamo affidare questo servizio fondamentale che prevederà frazionamenti, tariffe agevolate per i residenti e i disabili parcheggeranno gratuitamente. La collaborazione andrà avanti, si procederà con nuove assunzioni da parte di Marina Chiaveri, tutto con la supervisione mia che è una pratica che ho seguito io. Per quanto riguarda il personale di Apcoa si sente di garantire il futuro? Ho un incontro a breve con la CGL che ha chiesto un incontro col sindaco, passaggi solitamente tra aziende private quando vi è una cessione di un servizio di questo genere c'è il passaggio automatico del personale. Purtroppo essere assunti in Marina Chiaveri è come essere assunti in comune, quindi ci deve essere una procedura di selezione pubblica, vi sarà altresì una prova pratica per cui i dipendenti attuali parteciperanno e spero che vengano assunti tutti quanti. Lei pensa che questa gestione sarà omogenea rispetto alle due realtà, cioè una quella dei parcheggi e l'altra quella di Marina Chiaveri, quantomeno il personale potrebbe essere ambivalente? No, chi si occuperà del porto turistico continuerà a fare l'ormeggiatore, ha delle professionalità specifiche e quindi che sono apprezzate dagli utenti del porto. La parte sarà un altro ramo aziendale, quello dei servizi strumentali che verrà fatturato direttamente dal comune di Chiaveri. Attualmente ho messo a bilancio tutti i soldi per acquistare i nuovi parchimetri e le casse automatiche, sono convinto che daremo un ottimo servizio salvaguardando le entrate comunali dei parcheggi. L'assessore Gianluca Rato questa mattina qui in Sala Consiglio perché c'è una parte che riguarda Marina Chiaveri che lo coinvolge in maniera diretta. Parliamo di un progetto di marketing territoriale che prende il via grazie a questo tipo di collaborazione. Di cosa si tratta? Si tratta di una Fidelity Card che Marina Chiaveri ha studiato in sinergia con noi e con i nostri operatori ed è la possibilità che si dà ai diportisti di essere a contatto con tante attività del territorio, non soltanto di Chiaveri ma addirittura del Tiguglio con sconti e convenzioni naturalmente speciali ed è un progetto importante iniziato un po' di tempo fa che oggi diciamo parte. Sono molte le adesioni? In questo momento sono già una trentina le aziende che hanno aderito ma proprio da oggi diamo la possibilità a chi non fosse venuto ancora a conoscenza del progetto di poterne prendere parte, di farsi avanti e di sperimentare questo nuovo modo di fare commercio anche con i diportisti e di essere al centro il porto e naturalmente il Tiguglio. Attività di diversa natura? Attività di diversa natura perché diciamo dai negozi fino ad arrivare alla ristorazione fino al centro benessere piuttosto che altre attività possono partecipare a questo meraviglioso progetto. Come verranno promosse? Verranno promosse attraverso appunto questa Fidelity Card che verrà data in uso ai diportisti e attraverso poi dopo il rilancio pubblicitario nelle varie sedi. Danilo Marchello, il professore che dirige la superba Chamber Orchestra, che è un nome nuovo ma per capire già Orchestra del Tiguglio, ci presenta a dicembre musica 2017. Un appuntamento ormai che si perde nel tempo, nel senso che è davvero una tradizione. È una tradizione e allora grazie della domanda io colgo la tua domanda per ringraziare in primis l'amministrazione comunale entrande che ha voluto confermare l'appoggio per questa manifestazione. Credo che un po' di buona musica faccia bene a tutti, quindi usciamo tutti dai concerti che siamo dei cittadini migliori. È sempre bello vedere l'auditorio un gremito con persone che vengono a passarsi un pomeriggio e ascolta della muna musica. Sì, venerdì inauguriamo il dicembre musica. Venerdì 8. Venerdì 8, venerdì prossimo. Al pomeriggio i nostri concerti sono sempre tutti pomeridiani o mattutini, dipende. Abbiamo la nostra orchestra, hai ragione, abbiamo cambiato nome da due anni per una ragione specifica. Siccome ci siamo andati a fare un po' di concerti fuori, siamo stati anche all'estero così, ci hanno chiesto un nome un po' più internazionale e ci siamo, abbiamo cambiato il nome, ma l'orchestra è sempre la stessa, suona sempre meglio, per fortuna. Il programma che presentiamo prevede il concerto di Shostakovich, che è un'opera interessante, è un'opera del 1933. È un concerto per pianoforte, tromba e orchestra. I due solisti sono il pianista Dario Bonuccelli, è un pianista genovese, un giovane pianista, non giovanissimo, che sta facendo una carriera internazionale molto importante. La tromba è invece una delle trombe importanti d'Italia. Fabiano Cudiz è stato prima tromba alla Fenice, al Carlo Felice, adesso alla Pro di Roma. È un amico e viene volentieri, noi siamo contenti. È un brano interessante perché per tutti coloro che vorranno seguire, chiaramente nel 1933 soffiavano venti di guerra sull'Europa e Shostakovich con un'idea molto ironica, in qualche modo cerca un po' di stemperare questi venti che ahimè poi non andranno stemperati, ma avranno una brutta fine, ma questo Shostakovich comunque ci ha messo il suo impegno. Nella seconda parte del programma faremo una sinfonia di Schubert, la quinta sinfonia di Schubert. Siamo a Vienna nel 1816 e nel dicembre del 1816 è uno dei piccoli capolavori di Schubert, sono molto divertenti. E poi però questo dicembre in musica va avanti? Dicembre in musica va avanti, l'appuntamento successivo sarà per il 26, il giorno dopo di Natale e anche quest'anno abbiamo il piacere di ospitare con noi Roberta Invernizzi che è un soprano che vive a Chiavari, che ha anche lei una carriera internazionale, una musica antica soprattutto. Siamo molto felici quest'anno perché lei tra l'altro due giorni prima il 24 è alla Scala per cantare il concerto di Natale, quindi per noi è un onore averla dopo due giorni in quel di Chiavari con noi. Programma dedicato al Natale, c'è una cantata sacra di Handel, concerto grosso fatto per la notte di Natale e in questa occasione siccome i musicisti della mia orchestra sono molto versatili, è un programma del Settecento, lo presenteremo quindi con strumenti dell'epoca e prassi esecutiva dell'epoca e alla sera replicheremo il concerto nella Basilica dei Fieschi a San Salvatore. Sempre un bel, come dire, programma con una ricerca a monte. Quanto è bello fare questi passaggi e valutare goccia a goccia quello che poi diventa una cascata musicale? Beh, da parte mia è l'aspetto più piacevole, devo dire, perché comunque la storia della musica ci offre centinaia di migliaia di brani e creare degli accostamenti a volte un po' arditi, a volte suggestivi, a volte riflessivi, diciamo che stimola molto la fantasia di chi programma queste cose. Io poi devo confrontarmi anche con i musicisti perché spesso abbiamo delle esigenze diverse, però riusciamo sempre a trovare un'idea comune perché credo che sia essenziale avere un intento comune per offrire un buon risultato. Professor Danilo Marchello, lei ha sorriso sempre dall'inizio alla fine perché si capisce l'amore che passa per la musica quando lei parla. Ma io sorrido sempre perché sono un uomo maturo ormai che ha la fortuna di avere una bellissima famiglia, due figli meravigliosi. La vita mi ha dato solo gioia per adesso, quindi sono veramente felice di tutto e allora sorrido. Unito alla musica. Alla musica è una cosa, è una componente essenziale. Io credo che senza la musica tutti saremo molto più tristi. Provate a immaginare una giornata che accendete la radio, non c'è musica, non c'è musica da nessuna parte. Qual essa sia la musica? Poi noi la musica la intendiamo a 360 gradi. Sarebbe veramente triste per tutti senza musica. Quindi fermo restando che voi siete, diciamo avete il programma pubblicato su Facebook e ci sono locandine e manifesti in tutta la zona. Ricordiamo almeno il primo appuntamento. Primo appuntamento venerdì prossimo 8 dicembre ore 17. Auditorium San Francesco in centro a Chiavari, la superba Chamber Orchestra, Dario Buoncelli Pianoforte, Fabiano Kudiz Tromba, Shostakovich Schubert. Vi aspettiamo non troppo numerosi perché la capienza è ridotta a 300 persone e gli altri stanno in piedi come al solito. Bene, non mi resta che lasciare le previsioni meteo per la giornata di domani e la programmazione di Entella TV. Ricordo che l'informazione della carica della nostra emittente tornerà domani alle 12.45 alle 14.15 con il TGT Guglio Gente, mentre in serata andrà in onda il TGT Guglio tradizionale alle 19.30 e alle 22.45. Grazie per l'attenzione, a domani. Previsioni per domani, giovedì 7 dicembre. Molto nuvoloso o coperto sul settore centro-orientale, con deboli piogge diffuse, più insistenti sulla riviera di Levante. Venti in rinforzo fino a forti da sud-ovest, in particolare a largo e sui capi esposti. Mare in rapido aumento fino a molto mosso con onda da sud-ovest in serata, localmente agitato a largo. Umidità su valori alti. Le temperature previste sulla costa tra 11 e 16 gradi. Nell'entroterra tra 3 e 12 gradi.